Pochi istanti altrove e la borsa lasciata in auto con tutti gli averi sparisce. Il ladro era lì, nascosto dentro il garage, pronto ad introfularsi in casa. E ancora sotto shock la vittima del furto avvenuto a Pistoia. La signora dice di non sentirsi più sicura nemmeno tra le mura di casa. Mi sono recata nella mia auto in garage, che è accessibile dalla casa. In garage metto borsa a un'altra shopper. Cercando di entrare in macchina ricordo di non avere le chiavi di casa. Quindi lascio la borsa nell'auto e torno, ma velocemente perché all'interno della casa l'auto non era fuori, quindi era comunque tutelata. Io sono partita sinceramente, c'è la macchina, vedo che non ci sono più le borse. Quindi questo è successo quando l'auto era ancora in garage. Il ladro o i ladri evidentemente non si sono fatti intemorire dal traffico che è sempre presente su questa via e si sono intrufolate all'interno di questo garage aspettando il momento migliore. Cosa è stato rubato? Allora, la borsa che aveva praticamente tutto, cioè il cellulare, quindi un iPhone 7, è il fatto anche che velocemente hanno potuto prelevare. Hanno prelevato soldi, non gli dico quanto, comunque abbastanza. Rimane comunque un trauma. Il trauma rimane perché il fatto che sia successo in casa, cioè nel garage, ti rendi conto che come qualsiasi tutela tu possa avere non serve. Nonostante la denuncia ai carabinieri, dei malviventi per ora nessuna traccia. L'intero quartiere teme nuovi colpi.